La magia del Natale incanta la Valle dei Sicani. Storia, leggenda, cultura e tradizioni, qui esaltano la festa più bella dell'anno. Benvenuti a Sant'Angelo Muxaro per vivere insieme, momenti unici e suggestivi. Fede e arte fanno parte della Casa del Presepe, un'attrazione irrinunciabile. Luci, colori e statue in movimento vi stupiranno. Rinomata in questa parte della Sicilia è la Sagra della Ricotta, con la degustazione dei prodotti tipici. L'appuntamento è per il 6 gennaio, ad arricchire le tappe a Sant'Angelo imperdibili visite alla riserva naturale, alla necropoli e al museo archeologico. Invitare tutti a venire visitare questo bel paese, che è uno dei migliori borghi della Sicilia. E un augurio alla comunità di Sant'Angelo e a tutta la Sicilia. Buone feste a tutti!